Nessun gol, finora 0-0 Cerca la profondità, sulla fascia Decide di sfruttare la fascia Da lì può crossare, cross Bella apertura, può colpire E c'è il gol Ed è il primo gol della gara E nonostante la pressione della difesa Non ha perso la calma e ha messo la palla in rete E' un pessimo cliente per qualsiasi difesa L'ha appena dimostrato Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi Ma lui si è liberato di prepotenza Gran gol Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!